Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al primo appuntamento dell'Accademia dei Seminativi di Corteva realizzata in collaborazione con Edizioni L'Informatore Agrario. Primo appuntamento che dedicheremo ai cereali a paglia, in particolar modo a frumento tenero, frumento duro e orzo e parleremo non solo di diserbo e di fertilizzazione ma analizzeremo anche quella che è la situazione del mercato. Sappiamo che il 2021 è stata un'annata particolarmente interessante per quanto riguarda i cereali a paglia, frumento in primis, però cercheremo di capire che cosa ci aspetta nel 2022 anche alla luce di quella che è la situazione attuale. Cercheremo di analizzare quelli che sono due delle tecniche culturali più importanti, quindi parleremo di fertilizzazione e sicuramente di diserbo e lo faremo in collaborazione con dei graditi ospiti, in particolar modo con Stefano Serra di Info Granari e Servizi. Buongiorno Stefano. Grazie. Buongiorno. Mirko Fabri dell'azienda agraria dell'Università di Bologna. Buongiorno Mirko. Con Matteo Coarezza, Product Manager dei prodotti Biologicals, quindi una nuova categoria di prodotti per quanto riguarda il portafoglio di Corteva. Buongiorno Matteo. Buongiorno. E infine con Mirko Guarise che è Product Manager erbicidi e quindi parleremo sicuramente di diserbo. Dicevo, questo è il primo appuntamento di cinque appuntamenti che da qui alle prossime settimane vi faranno compagnia. Andremo a analizzare quelle che sono le principali problematiche nei diversi seminativi. Parleremo di mais, parleremo di girasole, di soia. Entreremo appunto su diverse pratiche culturali. Parleremo anche di agricoltura di precisione, quindi tutte quelle che sono le tecniche per ottenere produzioni di qualità. Vorrei innanzitutto però partire dal mercato. Stefano, il mercato dei cereali a paglia è stato molto interessante nel 2021. Facciamo un'analisi e cerchiamo di capire che cosa ci aspetta. Ringrazio per l'invito di Corteva, l'Accademia dei Cereali. Vediamo che cosa, innanzitutto, è successo recentemente, negli ultimi anni. Per cui possiamo dire che quella che è stata l'evoluzione dei fondamentali ha portato essenzialmente a una riduzione degli stock, che è stato più significativo nel grano duro sicuramente negli ultimi due anni, ma anche nel tenero, perché il tenero ha dovuto sopperire a delle manchevolezze provocate da un calo di produzione del mais un paio di anni or sono. Però vediamo essenzialmente che, da questa diapositiva, che le produzioni sono cresciute costantemente per quanto riguarda il grano tenero. Il mais, come abbiamo visto, ha avuto un calo negli ultimi due anni, soprattutto nell'anno precedente, e il grano duro ha avuto un vero e proprio crollo quest'anno per motivi climatici. In tutti i casi i consumi si sono mantenuti e questo ha fatto sì che si è creato una situazione di difficoltà a livello internazionale. Andando ad analizzare un pochino più in dettaglio quelli che sono stati i fondamentali, possiamo vedere che i raccolti in generale per i tre prodotti di cui parliamo oggi, per cui diciamo grano, tenero, grano duro e orzo, sono aumentati leggermente e progressivamente. Progresso che è stato sicuramente più importante e costante per il grano tenero. Per quanto riguarda l'orzo, diciamo, era andato molto bene fino al 2020, poi il 2021 c'è stata una lieve flessione. Quello che invece, diciamo così, è andato calando progressivamente è stato il grano duro e questo ha fatto sì che oggi ci troviamo a vivere una situazione abbastanza difficile. A livello dei consumi si è più o meno avuto un aumento dei consumi parallelo con le produzioni, però si può vedere che per esempio a livello del grano i consumi sono aumentati negli ultimi due anni, come si diceva prima, a sopperire a una carenza di mais. Abbastanza stabili i consumi dell'orzo, poi in calo i consumi del grano duro, soprattutto in aree dove è concesso, in Italia no, di poter produrre, diciamo, pasta, couscous anche con grani di forza, per cui vitri, ma non di grano duro. Per quanto concerne quello che è stato l'andamento delle scorte di campagna, possiamo dire che globalmente i tre cereali a paglia hanno migliorato leggermente le scorte, ma se andiamo in dettaglio vediamo che è quasi tutto dovuto al grano tenero e anche all'orzo che negli ultimi due o tre anni ha avuto un leggero incremento delle scorte di fine campagna. Il grano duro rimane ancora, diciamo, fanalino di coda, per cui ha avuto un calo delle scorte progressivo, dovuto anche alla domanda rigida che ha fatto sì che a produzioni inferiori non ci potesse essere più di tanto una compensazione. Quello che da più parti, diciamo, si evince come uno dei parametri più rilevanti è il rapporto scorte e utilizzi. Vediamo che il rapporto scorte e utilizzi negli ultimi anni è peggiorato per quanto riguarda il grano, è migliorato per quanto riguarda l'orzo e questo, diciamo, fortunatamente perché quest'anno, come andremo a vedere successivamente, l'annata è stata molto critica. Per il grano duro invece abbiamo avuto, ahimè, un calo importante e, stando la domanda di grano duro rigida, un calo significativo degli stock porta, diciamo, a delle conseguenze di mercato importanti. Per cui, diciamo, molto sinteticamente il 2020 e il 2021, l'anno del Covid, ha visto essenzialmente un calo delle scorte, una presenza o perlomeno un'introduzione di dazi e contingenti in alcuni paesi esportatori come la Russia e il Mar Nero e però anche un ritorno alla produzione di aree importantissime come l'Australia e il Sud America che avevano subito, diciamo, delle siccità severe negli anni precedenti. Il 2021 con cosa è iniziato? Ahimè con problemi climatici, soprattutto in Stati Uniti e Canada dove la siccità ha compromesso profondamente i raccolti dei cereali a paglia e anche in Europa dove, diciamo, la qualità è stata penalizzata, soprattutto per le produzioni centro-europee. A livello generale l'offerta di grano tenero ha subito per cui una contrazione, ma soprattutto per quelli che sono i grani di qualità, quelli che possono essere definiti panificabili superiori o i grani di forza. Gli orzi, alla luce della siccità profonda e molto seria, in Canada sono stati penalizzati per cui anche l'offerta di orzo cosiddetto pesante o, diciamo, per la produzione della birra ha subito dei problemi e ha avuto, diciamo, delle ripercussioni importanti sul mercato, ma quello che probabilmente è stato, diciamo, il fattore più rilevante è stato il calo del grano duro che come offerta ha raggiunto probabilmente i minimi sul mercato dovuti a una, diciamo, siccità del Canada che ne ha compromesso quasi per il 50 o qualcosa in più per 100 la produzione attesa. Il supply demand, diciamo, essenzialmente è rimasto molto a rischio ed era molto a rischio e resta ancora fino a nuova campagna prossima molto a rischio per il grano duro e per il tenero, come ho detto, soprattutto i grani di qualità e l'orzo da malto che è ricercato recentemente, l'Europa sta esportando questa tipologia di orzo sul Canada e questo la dice lunga sul fatto che il mercato abbia, diciamo, subito dei cambiamenti anche, diciamo, di priorità come origine. Che cosa ci prospetta il 2022-23? Innanzitutto abbiamo un punto interrogativo che forse è anche un problema più psicologico che altro che ci saranno ancora dei problemi climatici. Recentemente si parlava del fenomeno della nina in Sud America, parzialmente sta rientrando, però diciamo che questa scottatura dell'anno scorso rimane e, diciamo così, è un aspetto che tutti stiamo monitorando e che deve essere ancora tenuto in forte osservazione perché essenzialmente ancora in Nord America ci sono delle aree che hanno delle risorse idriche nel terreno molto molto basse e questo, diciamo, è un punto assolutamente critico perché un altro anno di siccità non ce lo possiamo permettere. Però diciamo che nel 2022, come raccolto, sconteremo un aumento delle semine che sono state un po' più o meno generalizzate e auspichiamoci un ritorno a rese per ettero medie. Questo chiaramente, questa combinazione di fattori che normalmente sono la normalità dovrebbero ridare un po' di stabilità ai mercati, soprattutto per i gani teneri e l'orzo e per il grano duro, diciamo, lo vedremo un po' più in dettaglio successivamente, però diciamo, si dovrebbe tornare a vedere quello che si definiscono i vagiti di una normalità. Per quanto concerne gli stock, ci sarà un lento ripristino degli stock, ma partiamo da livelli molto bassi per il grano tenero e per gli orzi e anche per il grano duro, per cui possiamo dire che essenzialmente questa evoluzione sarà, diciamo, graduale e non certo una campagna può risolvere quello che è successo nelle ultime due o tre. Globalmente il tono del mercato e dei prezzi dovrebbero restare ancora sostenuti e nella media solo a fine, diciamo, o nella seconda parte della prossima campagna. Ma diciamo che essenzialmente si dovrebbe cominciare a vedere, salvo le ultimissime vicissitudini politiche né nel Mar Nero, un graduale rientro verso, diciamo, una cosiddetta normalità, come si dice se e quando tutti i fondamentali venissero mantenuti nella media, non ci fossero, come si diceva prima, ulteriori problemi o nuovi problemi insorgessero. A livello del grano tenero, le ultime novità sono positive, cioè è arrivato il raccolto dell'Australia e dell'Argentina, sono raccolti al limite di raccolti record in quantità. Qualitativamente l'Australia ha avuto delle piogge per cui non sarà sicuramente un grano qualitativamente eccezionale, però quantitativamente la cosa si è risolta. Quello che rimane ancora un po' un punto interrogativo è l'export del Mar Nero, l'introduzione di Dazi, dei possibili contingenti, però è altrettanto vero che fino adesso, diciamo, l'export è stato sostenuto, per cui essenzialmente sul mercato è già stata collocata una sufficiente quantità di prodotto di grano tenero per, diciamo, creare un po' più, diciamo, di copertura e di tranquillità commerciale. Gli scambi sono proseguiti a buon livello, soprattutto dall'Europa nella prima fase, negli Stati Uniti anche nella prima fase di campagna l'export è andato molto a regime, ora sta calando perché chiaramente con l'arrivo dei raccolti dell'emisfero sud diciamo così, le esportazioni europee, soprattutto francesi, sono un po' in calo. Questo potrebbe probabilmente portare successivamente a un aumento degli stock. Quello che da ultimo può preoccupare un po' è la siccità, soprattutto nelle pianure del nord Stati Uniti e del Canada, però anche questo, diciamo così, fenomeno è in fase di risoluzione. Il supply demand del 2022-23 vedrà probabilmente produzione di consumi in parallelo e in aumento entrambi, con stock che si dovrebbero per il grano tenero perlomeno confermare o perlomeno leggermente migliorare e con un rapporto stock utilizzi attorno al 31% che è rasserenante, per cui vuol dire che la campagna finirà con un terzo di quelli che sono i consumi mondiali. In Europa sicuramente Francia e Germania avranno più rilevanza nelle esportazioni sia intracomunitarie che verso l'export, verso il Nord Africa per esempio o l'Asia. In generale possiamo dire che per il grano tenero ci sarà un buon livello di disponibilità. A livello proprio così numerico, e li potete vedere qui, c'è un aumento delle produzioni che arriveranno circa per il grano tenero a livello mondiale sui 781 milioni di tonnellate, però con un aumento dei consumi che è leggermente superiore, per cui si andranno a erodere circa un paio di milioni di tonnellate di stock finali, ma se vedete nel grafico in fondo a sinistra questo aumento delle scorte, che sono le barre in azzurro, porterà a un calo dei prezzi a livello internazionale, anche se non sarà un calo fortissimo perché a livello di scorte, come si diceva, il grano tenero si è sempre mantenuto anche negli anni passati a livello normale. A livello europeo la produzione sarà leggermente inferiore rispetto a quest'anno, per cui nel 2022 si faranno circa un paio di milioni di tonnellate in meno e in basso a destra e vedete dove cambieranno gli equilibri. La Romania e la Spagna saranno decisamente paesi più importatori, l'Italia avrà meno bisogno di importare dall'Europa e un ruolo determinante a livello intracomunitario lo avranno Francia e soprattutto la Germania che ultimamente ha visto anche essa calare di molto gli scambi commerciali con l'estero. Qui vediamo l'andamento dei prezzi, la prima freccia in basso a sinistra indica quando più o meno è cominciato il tutto, per cui nel momento in cui abbiamo avuto la conferma di un calo di produzione in Nord America e di problemi di qualità in Europa, adesso come vedete in alto a destra si tende ad avere un lento rientro alla normalità dei prezzi, però è molto evidente che quando i prezzi aumentano aumentano in fretta e quando carano, carano lentamente, per cui sul grano tenero avremo probabilmente un passaggio da una campagna all'altra non traumatico. Per il grano duro le novità appena ricevute è che il raccolto australiano è abbondante però qualitativamente non è eccezionale, anzi ha una percentuale di qualità medio-bassa che comunque fa, come si dice, legna, nel senso che è necessario avere della quantità disponibile in quanto quello che manca essenzialmente è il grano e non tanto le specifiche. Sicuramente quello che potrebbe essere rilevante è che il Messico comunque è riuscito a sopperire insieme all'Europa alla domanda del Nord Africa e degli altri paesi importatori, paesi che essenzialmente hanno cambiato molte delle ricette dei loro prodotti perché hanno calato i consumi, però Messico e Europa sono in parte usciti a sopperire a quei 3 milioni di calo di produzione che ha avuto il Canada rispetto alle attese. Questo è un bene e da un lato è un male perché l'Europa si sta un po' depauperando di grano duro e il grande punto interrogativo è a fine campagna cosa potrebbe succedere. Gli scambi commerciali sono abbastanza in ripresa dopo uno stallo che chiaramente è stato anche imposto da, come ho detto, i cambi di utilizzo in paesi come la Turchia, Algeria, gli stessi Stati Uniti che hanno introdotto una percentuale di tenero nella pasta come successe nel 2014 quando ebbero un altro problema importante. Per cui diciamo che negli scambi commerciali si va avanti, sono calate le scorte nei paesi utilizzatori e arriveremo probabilmente anche noi a scorte zero a nuova campagna. Questo chiaramente è un rischio nel caso che sorgessero dei problemi per ora inaspettati e non previsti. Nel 2022-23 le semine sono in aumento un po' da tutte le parti, il clima diciamo è al momento favorevole e a maggio avremo l'arrivo dei raccolti dei Stati Uniti su Dover, per cui inteso come Arizona e California, Messico e del Nord Africa a calmirare quella che potrebbe essere oggi una domanda nettamente prevalente sulla offerta. Il rapporto stocchi-utilizzi migliorerà un pochino, si arriverà al 24% ma resta sempre molto a rischio. Andando a vedere in dettaglio un po' i dati, vedete in alto a destra gli stock che migliorano ma rimangono molto deficitari, il grosso punto interrogativo è quello in basso a destra dove si dice che il Canada produrrà i 3 milioni in più necessari per poter coprire l'Europa e essenzialmente la richiesta internazionale. Arrivando ai prezzi sono saliti alle stelle diciamo inizio estate, ora sono stabili ma sono presupponibilmente in calo nei prossimi mesi. Arriviamo all'orzo velocemente, arriva la raccolta australiana e questo ha sopperito al problema canadese. L'export dell'Europa è stato molto vitale all'inizio perché il Canada si era bloccato, adesso siamo in stallo perché chiaramente l'Australia è riuscita a risolvere anche un po' il problema commerciale con la Cina per cui esporta e si stanno ricreando quegli assi Australia-Cina e Australia-Arabia-Saudita che sono un deterrente per l'export francese ed europeo. Gli stock rimangono abbastanza bassi, sono decisamente bassi al 13,5 per cui situazione abbastanza ancora a rischio nonostante con l'arrivo dei grani australiani e probabilmente con il ritorno del Canada al prossimo anno a una produzione normale, disponibilità e scampi dovrebbero nel giro di sei mesi stabilizzarsi. Leggera previsione di aumento dello stock use, cioè degli stock nella prossima campagna, ma non tanto significativo da poter dire che ne siamo fuori. A livello grafico vediamo che essenzialmente in alto a sinistra abbiamo la situazione fino al 2021-22 e il calo delle scorte ha portato a dei prezzi decisamente a rialzo. Nel 22-23 che è in basso a sinistra vediamo che tendenzialmente i prezzi dovrebbero rientrare significativamente, molto più del grano tenero. A livello europeo la nostra produzione prevista per il prossimo anno è in linea con quella di quest'anno, per cui non grossi cambiamenti, mentre a livello internazionale probabilmente un 5-6-7 milioni in più si produrranno e questo è molto positivo. A livello dei prezzi vediamo che tutto nasce nel giugno di quest'anno, i prezzi sono saliti notevolmente anche se all'inizio si pensava che con un raccolto canadese che poteva comunque uscire poteva rimanere in stallo, ora si stanno creando due situazioni differenti e i prezzi però tendenzialmente dovrebbero scendere. Per cui volendo trarre una conclusione si può dire che i prezzi rimarranno comunque buoni, rimarranno comunque a un buon livello per i produttori, si rientrerà gradualmente nella normalità, l'unico punto interrogativo è quello attuale del Mar Nero, della crisi politica che potrebbe fare saltare il piatto come si dice, perché? Perché se il Mar Nero chiudesse per un altro anno le esportazioni e la disponibilità si ricreerebbero dei deficit difficilmente da colmare anche se il Nord America e il resto del mondo andrà a produrre bene. Grazie Stefano, grazie per averci fatto appunto questa analisi di quelle che sono le dinamiche mondiali per quanto riguarda frumento e orzo e ti ringrazio veramente, poi c'è questa incognita climatica che rappresenta veramente un'incognita molto importante e che potrebbe veramente modificare completamente il sistema. Prima di andare avanti volevo ricordare che è possibile fare le domande ai nostri relatori sulla chat e quindi vi chiedo di fare appunto i vostri quesiti ai diversi relatori. Bene, abbiamo parlato di mercato però noi sappiamo bene l'importanza delle tecniche agronomiche e diciamo che per quanto riguarda i cereali a paglia sicuramente un ruolo fondamentale dato dal diserbo. Quindi con Mirko Fabri dell'azienda agraria dell'Università di Bologna faremo un po' un'analisi di quelle che sono le criticità, parleremo un po' di strategie e poi entreremo anche un po' più nel dettaglio su quello che è la problematica maggiore che è rappresentata dalle resistenze. Mirko a te la parola. Buonasera a tutti, in questa sede, in questa presentazione andremo a vedere un po' quali sono le principali strategie diciamo per la gestione e per il controllo degli infestanti del frumento. Finora abbiamo parlato, Stefano ha parlato molto di produzioni e appunto perché noi dobbiamo gestire al meglio questi infestanti? Perché gli infestanti vi possono causare degli ingenti cali di produzione, sono molto dannose per il frumento. Come si può vedere da questo grafico che uso ormai da molti anni ma è sempre valido, le infestanti causano dei cali di produzione proporzionali al numero di infestanti a metro quadro che abbiamo. Una tra le più pericolose come si può vedere è il gallium che oltre a una competizione per il frumento può dare anche proprio dei problemi alla raccolta passando poi a tutte le altre infestanti fino a arrivare a tutte le graminacee che rappresentano una vera e propria problematica per il frumento. Diciamo che se non diserviamo possiamo arrivare a dei cali di produzione che vanno dal 30 fino a arrivare al 100% della produzione. E' importante sapere però quali sono quelli infestanti con cui abbiamo a che fare, diciamo qual è il nostro nemico in questo caso se lo possiamo definire così? Beh per quanto riguarda il sistema frumento una problematica rappresentata molto dalle graminacee. A farla un po' da padrone in tutta Italia è l'avena, tutte le varie avene in particolare l'avena sterilis per la quale diciamo stanno saltando fuori molti ecotipi resistenti. Stesso discorso può essere fatto per il loietto, anche in questo caso abbiamo diverse resistenze già conclamate in tutta Italia che poi andremo a vedere più profondamente nel proseguo della presentazione. L'alopecuro, anche questo molto diffuso e rappresenta anche lui dei problemi di resistenza. Diffuse però più nel centro Italia abbiamo le falaridi, quindi sia la Paradoxo che la Brachistachi sono le più diffuse. Per quanto riguarda magari i terreni dopo medicaio così abbiamo le poe, anche queste in diffusione. Fora diffusione dopo medicaio abbiamo i bromi, sia il mollis che lo sterilis, molto diffusi anche dove si pratica la minima lavorazione o la semina su sodo, come anche l'ordo selvatico. Passando poi alle dicotiledoni abbiamo il papavero che la fa da padrone, anche in questo caso la vera problematica è l'insorgenza di resistenza in particolare alle solfoniuree, ormai è diffuso in tutta Italia, è il papavero resistente alle solfoniuree. Poi abbiamo le crucifere, sinapisi in particolare, camomilla abbastanza gestibile, diciamo al momento problematiche di rilievo non le abbiamo, come anche per la veccia. Molto diffuso il gallium, che vi ho già detto prima, la pericolosità e la problematica di questi infestanti. In forte diffusione invece abbiamo infestanti che un tempo erano marginali, che poi vedremo nello specifico più avanti, quali le veroniche. Le veroniche ormai sono molto diffuse, un po' ovunque. Stesso discorso può essere fatto per la viola, per la fumaria, infestanti che un tempo, e il geranio, infestanti che un tempo magari erano poco considerate, poco presi in considerazione, però hanno preso il predominio. Diciamo infestanti meno diffuse, ma anche se molto importanti, diffuse solo in certe aree, abbiamo la Mimaius, la Neto, la Bifora, anche questo è diffuso soprattutto magari nel centro Italia. In forte diffusione il Cardo Mariano, il Silibum, questo magari fino ad alcuni anni fa era arginato ad alcune aree, magari negli incolti, poi purtroppo si è diffuso enormemente perché comunque si dissemina molto facilmente questo infestante. Poi vi ha la Centauri, la Lattuca, la Lattuca soprattutto rappresenta un problema se abbiamo una cultura rada, perché è un infestante a nascita tardiva. E sempre per quanto riguarda l'infestante a nascita tardiva abbiamo le perenni, in particolare un problema è rappresentato dal Circium, dallo Stupione, che è anche questo in forte diffusione, e dall'equiseto, quest'ultimo diciamo una cultura rada può emergere, emerge tardivamente e tardivamente non sempre possono andare a intervenire, anche perché i prodotti che sono efficaci nei confronti di questi infestanti su frumento li avremo, ma però sono limitati da dei tempi di carenza abbastanza prolungati, quindi è un infestante da tenere bene in considerazione anche questa. Dopo aver fatto questa carrellata, diciamo, come le gestiamo questi infestanti? In questa sede io andrò a trattare solo la gestione chimica, quindi parleremo di diservo. E ho pensato di dividerle in tre macrointerventi, praticamente, il presemina, il preemergenza o postemergenza precoce, secondo di quando decidiamo di intervenire, e il postemergenza classico, che è anche il più diffuso. Non è detto che noi dobbiamo adottare una sola di queste tre tecniche, ma possono essere anche adottate una o più di queste, cioè messe in strategia nell'arco di un anno. Partiamo, diciamo, da quella in assenza di cultura, il presemina. Il presemina, beh, lo utilizziamo per lo più quando si tratta di semine su sodo o minima lavorazione, oppure qualora venga praticata la tecnica della falsa semina. Una tecnica, questa, molto importante per la gestione, in particolare, delle resistenze. E, una volta che, praticamente, si fanno trattamenti istintivi con glifosate per azzerare le infestanti presenti. La tecnica della falsa semina, ricordatevela bene, è fondamentale, non solo nel frumento, ma soprattutto anche nelle culture primaveri e estive. Su soia, ad esempio, dove abbiamo la problematica dell'amaranzo resistente, la falsa semina sta risolvendo parecchio il problema, almeno ci sta aiutando molto a contenerlo. Ho visto quest'anno che con la tecnica della falsa semina si è arginata parecchio la situazione. Passiamo, ora, diciamo, alle tecniche più diffuse. Quindi, il preemergenza e il postemergenza classico. Possiamo dire che la quasi totalità della superficie italiana coltivata a frumento viene diservata chimicamente. Il 95%, come potete vedere dal grafico, di diservo viene effettuato in postemergenza, che è anche quello più diffuso, mentre una piccola fetta, circa un 5%, di quella del frumento viene diservato in preemergenza. Ed è appunto su questo che partiremo con il focus di questa presentazione. Era una tecnica, simile al postemergenza precoce, molto diffusa negli anni 70, poi via via un po' abbandonata con l'introduzione delle tecniche di postemergenza molto più flessibili, diciamo. Si può trattare da subito dopo la semina fino alle 4 foglie del frumento, circa, qui in questo caso si parla di postemergenza precoce. Si utilizzano prevalentemente prodotti ad azione residuale radicale, quindi prodotti che devono persistere abbastanza nel terreno. Però, come vi dicevo, quel 5% probabilmente è destinato a salire, perché comunque sono tutti i prodotti, tutti i principi attivi, fondamentali da inserire nel diservo per il contenimento delle infestanti resistenze, per la gestione delle resistenze. I principi attivi più utilizzati, che conosciamo bene, sono il triallate, clortolum, pendimetalin, di flufenican, prosulfo, carabe flufenace, prodotti certo non nuovi, che però, anzi, hanno già parecchi anni, però stanno comunque riprendendo piede. Si usano quasi sempre in miscela, difficilmente vengono utilizzati singolarmente, a meno che ci si trovi di avere a che fare con una problematica specifica che uno di questi prodotti me la possa andare a risolvere. Fondamentali, importanti, perché posso andare a gestirle infestanti fin dai primi stadi di sviluppo della cultura, perciò non mi vanno a creare competizione. Di seguito, diciamo, ho riportato i principi attivi che vi ho elencato prima, che abbiamo a nostra disposizione, quando possono essere applicati. Partendo dal triallate, per il quale è consigliato un utilizzo del solo per emergenza, e però è anche l'unico che mi può dare un contributo per il controllo delle avene. Dopo passiamo al prosulfo carb, che è pendimetalin, diflufenica, neclortolorum. In particolare, il prosulfo carb, pendimetalin, neclortolorum mi aiutano molto per il contenimento dei loietti resistenti, sono fondamentali, mentre diflufenica mi dà una mano, per lo più, soprattutto nel controllo delle veroniche e del papavero. Questi però li abbiamo a disposizione sia da soli che in diverse miscele, come potete vedere, a due vie, che dove di base abbiamo sempre un diflufenica per il controllo delle dicotiletoni. Passando ai vantaggi di questa tecnica, beh, che mi consentono di controllare le infestanti fin dai primi stadi di sviluppo del frumento, quindi non ho un'azione competitiva, e sono fondamentali per gestire eventuali resistenze ai graminicidi, DIM e FOP in particolare, e alle solifonidoree sul papavero, per quanto riguarda il papavero. Gli svantaggi, beh, adesso vedremo che alcuni ci sono, perché, diciamo, non sempre, come vi ho detto prima, non sono completi, cioè non mi garantiscono un controllo completo della foria infestante, in particolare vene e gallium, quindi spesso necessitano di interventi di rifinitura in post-emergenza. Richiedono letti di semina preparati con cura, quindi il pre-emergenza e il post-emergenza precoce ce lo dobbiamo scordare magari nella semina su sodo, oppure se ho dei terreni preparati non con cura, devono essere ben affinati. Sono condizionati, fortemente condizionati dal meteo, hanno bisogno di pioggia per essere attivati questi prodotti, se non piove nel giro di 10-15 giorni, io vedo un progressivo calo di efficacia di questi, fino quasi a un annudamento dell'efficacia. E non sono sempre selettivi, per alcuni di questi prodotti, oltre a essere una diversa selettività tra frumenti teneri e duri, ci sono delle diverse selettività tra le varietà di frumento tenero o all'interno delle varietà di frumento duro, quindi bisogna prestare un po' attenzione, però bene o male, sia per quanto riguarda le sementi, per quanto riguarda le varietà, che per quanto riguarda i prodotti, sono importati in etichetta le varietà sensibili, quindi meno male ci si riesce a giostrare su questo aspetto. Passando ora invece alla tecnica di eservo più diffusa, che è rappresentata dal post-emergenza, il motivo per cui è la più diffusa è anche perché è molto flessibile, la possiamo impiegare dalle tre foglie del frumento fino ad arrivare alla botticella, come potete vedere abbiamo un ampio spettro, un ampio timing di applicazione. Si utilizzano prodotti sistemici a prevalente azione fogliare, che sono attivi su un'ampia gamma di malerve, qual è il vantaggio? Che io posso calibrare la mia miscela in funzione delle malerve che sono presenti nel mio appezzamento. Diciamo anche in questo caso posso andare a distinguere diverse epoche di applicazione, partendo da interventi precoci che io ho circa messo tra l'inizio dell'accessimento fino alla levata. In questa fase diciamo la maggior parte delle infestanti sono già emerse, quindi ho una cultura anche in rapida ripresa che mi può andare ad ostacolare un'eventuale emergenza di futura di infestanti, quindi diciamo la cultura riesce a chiudere prima che nascono delle altre infestanti. Le infestanti in questo stadio si trovano anche in uno stadio di sviluppo troppo avanzato, quindi sono piccoline, sono in forte crescita, quindi sono maggiormente recettive e assorbo maggiormente i prodotti sistemici che ho vado a somministrare. Ciò mi garantisce un maggior successo dell'intervento che vado ad effettuare in questo periodo. Una maggior garanzia di successo fa sì che questi infestanti, che io abbia un'eliminazione precoce di questi infestanti, che mi danno una minore competizione e di conseguenza ho delle minori perite produttive. Quindi un intervento precoce spesso è da consigliare. E quando è che io mi sento di consigliare? Soprattutto su semine precoci, quindi il frumento è più esposto all'azione competitiva delle infestanti che nascono prima anche loro come il frumento, oppure quando usciamo da inverni tendenzialmente miti che mi hanno favorito lo sviluppo delle infestanti, quindi in questo caso con primo intervengo con meglio è. Dopo gli interventi precoci ho classificato gli interventi tardivi che vanno dalla fine dell'accessimento alla piena levata. Questi sono più indicati per le semine tardive oppure per controllare quegli infestanti diciamo a nascita tardiva come le ombrellifere, le composite o le perenni. Sono consigliate in caso di semine ritardate oppure se abbiamo delle culture rade perché una cultura rada, una semina ritardata, gli infestanti tendono a nascere fino avanti nel periodo. Sono interventi specifici in particolare per il controllo delle perennanti come vi ho fatto vedere prima anche l'equiseto, la calistese, lo stopione che poi emergono di solito tardivamente. Qui vi ho riportato due immagini diciamo abbastanza emblematiche dove nella prima possiamo vedere gli esiti di un trattamento fatto troppo tardi su avena con infestanti troppo sviluppate, a fronte di un iniziale controllo questi infestanti hanno ricacciato e sono andati a seme, quindi un intervento troppo tardivo in particolare sulle gravinacee è sconsigliabile. A fianco anche in questo caso si può vedere un intervento più precoce rispetto a uno più tardivo come si può vedere quello più precoce ha dato degli esiti migliori. Passando ai principi attivi che abbiamo a disposizione anche in questo caso li ho divisi tra dicotiridinicidi, graminicidi prevalentemente ad azione graminicida e ad ampio spettro. In questa prima slide ho riportato tutti i decotiridinicidi indicati per interventi anche precoci, quindi dalla terza foglia alla piena levata. Come potete vedere qui troviamo quasi tutte le solfoninuretri, benuron, metzulfuron, tritosulfuron presenti sia da soli che in miscele e miscelati anche col florasolam che svolge un ruolo molto fondamentale per il riservo del frumento. Fino ad arrivare diciamo a miscele a più vie e all'ultimo prodotto introdotto la Loxifen Laridex presente in diverse miscele. Passiamo ora a prodotti più indicati magari per applicazioni più tardive che vanno dall'accestimento fino ad arrivare anche alla botticella dove troviamo un po' tutti i prodotti ormonici presenti sia da soli che in diverse miscele più indicate per la gestione come vi ho detto di infestanti a nascita tardiva oppure per la gestione anche magari di infestanti resistenti che sono sfuggite ad un primo controllo. Questi prodotti diciamo hanno, alcuni di questi hanno un limite che è rappresentato dai tempi di carenza. Sia i prodotti visti nella tabella precedente che in questa tabella possono essere miscelati con più o meno cautela con dei graminicidi. Graminicidi che possiamo avere, graminicidi specifici inibitori dell'enzima a casi quali penoxa, propicolinofob o pinoxaden ma possiamo avere anche prodotti con una prevalente azione graminicide. In questo caso troviamo tutte le solfonioree definite graminicide. Quindi abbiamo il piroxolam, mesosulforon, iodosulforon, propoxicarbazone, tiancarbazone. Anche in questo caso anche queste solfonioree possono essere miscelate con i prodotti precedentemente citati con più o meno cautela anche in questo caso. Passiamo poi ai prodotti ad ampio spettro che sono miscele già pronte dei prodotti, dei precipiativi visti finora, molto comodi, molto pratici. Nella maggior parte dei casi giustano miscele già completi, in alcuni casi hanno bisogno di essere rifinite anche in questo caso. Passandogli vantaggi e svantaggi? Beh, i vantaggi del post emergenza, certamente che nel 99% dei casi è un intervento unico il post emergenza e spesso risolutivo. Hanno un'ampia flessibilità, come vi ho detto andiamo da inizio cestimento, dalle tre foglie fino ad arrivare alla botticella e posso calibrare la mia miscele in funzione delle infestanti che sono presenti, quindi posso crearmi le miscele ad hoc e posso controllare anche quasi tutte le perenniche ovviamente con le applicazioni di preemergenza sarebbe impossibile controllarle. Per quanto riguarda gli svantaggi, beh, come vi ho già detto più volte, la competizione, ecco la competizione può essere uno svantaggio, fino alla morte degli infestanti, questi infestanti danno competizione al frumento, in particolare come vi dicevo se gli interventi vengono fatti molto tardivamente, questi infestanti daranno sempre più competizione. Ma la vera problematica, lo vero svantaggio che è emerso negli ultimi anni è la diffusione di infestanti che hanno manifestato assintomi caratteri di resistenza, quindi si sono diffuse delle resistenze che possono compromettere l'efficacia di alcuni di questi prodotti, di quelli di prodotti che vi ho elencato finora. E appunto sulle problematiche che ci concentreremo in questa seconda parte della presentazione. Diciamo che nel corso degli anni abbiamo assistito a un'evoluzione della flora infestante, in particolare sono aumentate specie che un tempo erano marginali, che adesso sono in forte diffusione, quelle che vi ho già elencato un po' prima, in particolare le veroniche, il geranio, la fumaria, la viola, queste sono specie in forte diffusione. Ma la vera problematica, quella più sentita, secondo me è rappresentata dalle popolazioni divenute resistenti. In particolare ne abbiamo tra le dicotiledoni, in particolare qui abbiamo il papavero e la sinapis, resistenti agli erbicidi ormonici in piccola parte, ma la vera problematica in maggior parte è che abbiamo delle resistenze agli inibitori dell'enzima ALS. Agli inibitori dell'enzima ALS abbiamo anche delle resistenze tra le graminacee, in particolare per quanto riguarda vene e loietto. Per quest'ultimo sono stati conclamati anche nei casi di resistenza glifosate e sia per queste due infestanti appena citate che per alopecuro e falaride sono state trovate delle resistenze anche agli inibitori dell'accasi. Quindi diciamo la problematica è abbastanza diffusa e in diffusione. Guardando un po' più sullo specifico queste due problematiche, per quanto riguarda le infestanti di sostituzione, una delle motivazioni quasi rappresentate dalle diffusioni, delle tecniche di minima lavorazione della semina su sodo, che vanno molto ad avvantaggiarmi questa tipologia di infestanti, in particolare mi avvantaggiano le perenni. Ma probabilmente la vera problematica è stata rappresentata dall'impiego ripetuto di erbicidi non efficaci nei confronti di questi infestanti, in particolare ad esempio le solfoniluree o il florasolan che non mi controllano a pieno, veronica, fumaria e viola. Quindi diciamo questi prodotti mi hanno risolto il problema delle principali infestanti, quali papavero, il gallium e le crucifere, però hanno fatto sì che alcuni di questi infestanti come la veronica, la fumaria e la viola si siano introdotte nei campi e abbiano preso un po' piede. Comunque le armi per contrastare, fra il nostro arco, le abbiamo. Per quanto riguarda la diffusione delle resistenze invece la problematica è più sentita, infatti la motivazione di questa diffusione probabilmente è dovuta a una semplificazione dei sistemi culturali, in particolare può essere stata data da una riduzione o di un'assenza delle rotazioni. Sarebbe bene evitare le monosuccessioni perché ci troveremo ad affrontare e a contrastare le stesse infestanti nello stesso periodo con le stesse armi, quindi sarebbe meglio effettuare delle rotazioni quadriennali, quinquennali, diciamo qui bisognerebbe tornare un po' all'antico. Ecco, un'altra problematica può essere rappresentata dall'impiego ripetuto degli stessi erbicidi, quindi io non devo fare una rotazione solo delle culture, ma anche dei meccanismi d'azione, soprattutto quei meccanismi d'azione molto specifici. Passando sempre riguardo alle resistenze, diciamo per quanto riguarda le graminacce interessano però più l'oietto, quindi dove abbiamo resistenza, sia come ho detto in precedenza, sia la Casi, sia gli inibitori dell'ALS, ma anche resistenze multiple, stesso discorso per l'avena Sterilis. Per quanto riguarda la falare invece le resistenze sono più rivolte agli inibitori dell'Acasi come anche per l'olopecuro. Per quanto riguarda invece le dicotiledoni, mi ripeto abbiamo il papavero dove abbiamo resistenza sia agli inibitori dell'ALS ma in minor parte anche al 2,4 D e abbiamo, iniziamo ad avere alcuni casi sporatici di resistenze di sinapis agli inibitori dell'ALS. Mirko, due minuti. Ok, una breve carrellata di dove sono collocate diciamo queste resistenze, adesso questa le faccio vedere un po' in breve, diciamo per quanto riguarda il papavero ormai diffuso a macchie di lopardo in tutta Italia, più circoscritta come vi ho detto la situazione della sinapis che al momento è localizzata in due regioni, casi conclamati. Come riportato nelle mappe del Gire potete vedere anche per quanto riguarda l'olopecuro non c'è una forte diffusione però è diffusa al momento in due regioni principalmente Puglia ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda l'avena anche questa tutta la fascia adriatica è interessata da questa problematica e è abbastanza in forte diffusione. Quella della falaride è abbastanza, la problematica di sua falaride è abbastanza concentrata mentre in forte diffusione come potete vedere a macchie di lopardo è anche la resistenza dell'oietto sia agli inibitori degli acasi che dell'ALS che ai glifosati, come potete vedere è parecchio diffusa questa problematica. Come le diffusione, come le gestiamo queste resistenze? Cosa possiamo fare? Beh come vi ho già detto una rotazione triennale, quadrenale, quinquennale sarebbe appropriata, sarebbe fondamentale. Sfruttare la tecnica falsa semina non solo su frumento ma anche su altre culture è importante. Aver cura sia degli incolti che diciamo devitalizzare gli infestanti da una cultura e da l'altra. Io le mie infestanti non devo fare andare a semi in poche parole, devo avere sempre i campi puliti e qualora sia possibile ricorrere e se la cultura me lo possente ricorrere alle lavorazioni meccaniche. È importante conoscere la froide infestante e la tessitura dei terreni quindi devo fare sempre un buono scouting per poter utilizzare al meglio i pochi ribicidi che ho a disposizione ed è fondamentale rispettare le dosi di etichetta. Una delle motivazioni che ha fatto in sorge la problematica della resistenza è anche stato quello di utilizzare dei prodotti sottodosati. Utilizzare strategie ridotte a pressione selettiva, impiegare qualora sia possibile i prodotti residuali ed è fondamentale integrare la lotta chimica con delle corrette pratiche agronomiche. Riassumendo, concludendo, diciamo che non abbiamo visto i grossi cambiamenti della flora infestante nel corso degli ultimi anni, tuttavia abbiamo visto l'incremento di specie di sostituzione che un tempo era marginale, diffusione di specie di infestanti diventate resistenti, difficili da controllare ma si possono controllare integrando misure di carattere agronomico con la lotta chimica e fondamentale, mi raccomando non mi stancherò mai di dirlo, è fondamentale alternare i meccanismi d'azione per preservarli, quei pochi che abbiamo preserviamoli. Grazie. Grazie Mirko, grazie per averci fatto veramente in questi 20 minuti un'analisi molto sintetica ma allo stesso tempo dettagliata di quelle che sono le problematiche, di quelle che sono le soluzioni a disposizione e soprattutto ci hai fatto vedere che cos'è questa resistenza perché si è venuta a creare e quelle che sono le buone pratiche. Abbandoniamo momentaneamente la parte del diserbo e passiamo alla parte di nutrizione. Con Matteo Quarezza vorrei innanzitutto capire Corteva che cosa mette a disposizione per questa parte della nutrizione perché è importante una corretta nutrizione innanzitutto dei cereali. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie per l'attenzione. Allora Corteva come sapete non è un'azienda nata come azienda di nutrizionali ma sapete che il mercato si sta evolvendo, si sta evolvendo molto velocemente verso delle soluzioni più sostenibili, delle soluzioni che possono proteggere sia il consumatore finale, sia l'agricoltore e sia l'ambiente. La nostra punta di diamante che lancieremo quest'anno sulle culture ostensive è il Blue N. Allora voi sapete benissimo come l'azoto all'interno del suolo, all'interno della pianta come può essere perso, come può non essere assimilato dalla pianta, può essere immobilizzato all'interno di parti della pianta, può essere denitrificato, può essere liciviato soprattutto o può essere anche volatilizzato e quindi queste sono tutte perdite che noi abbiamo, sono sia perdite di produzione perché non abbiamo nutrimento per la pianta ma sono anche perdite economiche perché magari noi abbiamo investito, abbiamo comprato, siamo entrati in campo, abbiamo fertilizzato la nostra cultura ma poi la nostra cultura non usufruisce. E poi, dolcissimo in fondo, quest'anno con l'aumento dell'energia c'è stato anche un aumento esponenziale del costo delle materie prime a base azotate, quindi è un argomento sicuramente sicuramente attuale. Voi sapete che in commercio in natura esistono diversi tipi di batteri azotofissatori, abbiamo i batteri azotofissatori non simbionti, abbiamo i batteri azotofissatori simbionti che possono, che vivono nell'arizosfera, ovvero nel suolo, che creano una sorta di simbiosi oppure no con le radici della pianta e cosa fanno? Riescono a sintetizzare l'azoto presente nel terreno sotto forma di gassosa, quindi di aria e allora è non disponibile alla pianta. Corteva è riuscito a trovare una soluzione completamente diversa da quello che esisteva già, ma abbiamo dei batteri endorfiti all'interno della foglia della pianta, ovvero sono dei batteri, è un ceppo di batterio che entra attraverso gli stomi della foglia della pianta e incomincia a colonizzare la pianta stessa. È una formulazione granulare, quindi sono granuli che si disperdono in acqua, con una presenza di tre, tra dieci e la settima, di unità formante colonia del nostro metilobacterium simbionticum, che è il batterio che con l'aiuto di Simbrox siamo riusciti a isolare e quindi siamo riusciti a perfezionare. Sicuramente è una formulazione molto molto stabile, soprattutto per l'azione di microincapsulamento che abbiamo fatto di questo metilobacterium, per poterlo conservare e possiamo vantare, dico proprio la parola vantare, uno shelf life, quindi una conservabilità di questo prodotto molto lunga e si parla di garantiti almeno due anni. È un prodotto assolutamente consentito in agricoltura biologica e qui abbiamo le nostre certificazioni che dimostrano l'iscrizione, il registro biologico e quindi la possibilità agli agricoltori che lavorano nel biologico di utilizzare tranquillamente questo prodotto. Andiamo a vedere un po' come funziona il nostro metilobacterium. Allora, quando noi lo applichiamo sulla coltura, che cosa fa? Il nostro metilobacterium attraverso gli stomi presenti sulle foglie della pianta penetrano all'interno della pianta e nel giro di pochi giorni riescono a colonizzare l'intero apparato fogliare della pianta, l'intera foglia. In questo modo incomincia da subito a partire una simbiosi tra la pianta e il metilobacterium e quindi il nostro metilobacterium riesce a fornire, a fissare l'azoto dall'atmosfera e fornire l'azoto alla pianta. Come lo fornisce? Entra in gioco nel processo di nitrogenasia e di nitratore duttasi. Quindi il nostro metilobacterium cosa fa? Prende l'azoto dall'atmosfera e lo trasforma subito in cibo per la nostra pianta, in azoto per la nostra pianta per produrre immediatamente che cosa? Gli amminoacidi. Infatti se noi andiamo a fare un'analisi fogliare della nostra cultura non troveremo assolutamente dell'azoto all'interno della foglia perché questo azoto viene subito trasformato in amminoacido e quindi l'azoto viene trasformato immediatamente in cibo assimilabile per la pianta. Oltre a questo che cosa fa? Il nostro metilobacterium colonizzando la pagina fogliare della pianta riesce anche a produrre una pigmentazione violetto. Violetto che cosa fa? Che riesce ad attirare in maniera molto più efficiente il raggio UV del sole e quindi riesce ad aumentare l'efficienza della fotosintesi della pianta. Quindi noi cosa abbiamo? La modalità di azione del Bluen diciamo che sono due. Uno, una continua disponibilità di azoto con l'azoto fissazione da parte dell'atmosfera e quindi Bluen riesce a fornire indipendentemente dalla disponibilità di azoto che ha la pianta riesce a fornire azoto durante tutto il ciclo culturale della pianta. E il secondo effetto è quello di aumentare e di ottimizzare la capacità fotosintetica della pianta. Quindi abbiamo un effetto, un duplice effetto di questo metilobacterium. Qui ci tenevo a fare vedere una delle ultime prove e delle rilevazioni fatte dall'alto, dai droni. Questo qui è un appezzamento di terreno dove è stato applicato Bluen. Vedete che le due strisce laterali sono molto più verdi e quindi dove è stato applicato il prodotto, il non trattato e la strascia in mezzo. In questo caso qui è veramente molto evidente come Bluen è riuscita ad aumentare l'efficienza fotosintetica della pianta, quindi ad avere quell'effetto stay green, cioè un effetto molto verde della foglia della pianta e quindi riesce a produrre meglio. Ovviamente una pianta che sta bene, è in salute, è ben nutrita e anche meno soggetta all'attacco dei patogeni. Quindi una pianta ben nutrita è una pianta sana, molto più sana. Qual è il dosaggio del prodotto? Il dosaggio del prodotto su cereali e anche su mais è di 333 grammi a ettro, quindi è un'applicazione, come dico sempre io, abbastanza abbastanza limitata. Il timing di applicazione a partire dall'accessimento elevata, avanzata dei cereali che può, e può essere, l'applicazione può essere fatta in qualsiasi momento, anche in un momento posteriore a queste fasi a secondo della zona in cui ci troviamo. qui volevo farvi vedere un sunto di alcune prove che abbiamo svolto nello scorso anno, sia in Italia sia in tutta Europa, dei risultati su cereali dopo l'applicazione di Bluene. Allora abbiamo il naso, se stracciare il naso, ma in maniera anche positiva, quindi c'è un accorciamento degli internodi, quindi c'è un minor rischio di allettamento. Questo perché? Perché riusciamo a fornire la giusta quantità di azoto e di amminoacide nel giusto momento. E in più cosa abbiamo? Abbiamo un ottimo effetto sulla granella, quindi un aumento di produzione della granella e una diminuzione della produzione della paglia. L'anno scorso abbiamo realizzato all'incirca 43 prove dove siamo riusciti ad andare a stimare un attimino qual è stato l'apporto di azoto. L'abbiamo fatto in maniera empirica, quindi mantenendo la produzione a basso standard e vedendo con delle diminuzioni di quota di azoto quale sarebbe stata la risposta della pianta, come vedete le risposte sono state decisamente incoraggianti, perché abbiamo visto che nella maggior parte dei casi, più del 50% abbiamo prodotto una quantità di azoto di 50 unità a ettaro fino ad arrivare alle 70. Questo è stato sicuramente un ottimo risultato. Quindi quali sono i benefici di Bluen sul cereale? Quindi applicare Bluen abbiamo sicuramente una fonte addizionale di azoto durante tutto il ciclo della pianta, ovvero dall'applicazione fino alla raccolta. Le prove hanno evidenziato che con Bluen c'è stata una produzione maggiore di granella e anche una qualità maggiore della granella e una minore produzione di paglia, un incremento della resa di produzione che si aggira tra il 2% e l'8%, quindi è un ottimo aumento di produzione e possiamo affermare con certezza che nel 92% dei casi di applicazione di Bluen abbiamo almeno avuto una produzione di 30 unità di azoto a ettaro. Perché consigliamo questa soluzione? Sicuramente per avere una stabilità della resa. Quindi Bluen, indipendentemente dal contenuto di azoto che abbiamo nel terreno, fornisce costantemente azoto durante tutto il ciclo della pianta, è sicuramente un'ottima soluzione per i programmi di gestione dell'azoto. Ha un'ottima flessibilità di applicazione, quindi si parte di applicazione integrata, quindi noi possiamo miscelare il nostro Bluen con i principali erbicidi, fungicidi, fertilizzanti e adiuvanti. Ha un'ottima formulazione e facilità d'uso, quindi come avevo detto ha uno shelf life decisamente interessante, abbiamo due anni di shelf life a temperatura ambiente, quindi non deve essere conservato in atmosfera protetta. Ha una dose omeopatica, come piace dire a me, quindi parliamo di 300 grammi a ettaro ed è sicuramente una soluzione sostenibile. Quindi noi andiamo a risparmiare un'unità di azoto oppure possiamo andare ad aumentare la nostra produzione senza andare a investire ulteriormente in apporti di azoto, che sono dannosi sia per il nostro portafoglio che per l'ambiente. Grazie mille. Grazie Matteo per averci presentato appunto questa nuova soluzione di Corteva, molto interessante anche alla luce di quello che è il mercato in questo momento, sappiamo dell'azoto, gli aumenti dei prezzi, e quindi avere una soluzione di questo tipo può sicuramente aiutare l'agricoltore anche in queste situazioni. Mirko, ritorniamo a parlare di diserbo, abbiamo sentito da Mirko Fabri quelle che sono tutte le problematiche, l'innovazione di Corteva che cosa porta sul mercato per dare risposte concrete ai cereali coltori. Grazie Gian Antonio, a me è l'onore di concludere questa serata sui cereali, spero sia stata interessante per tutti e torniamo al diserbo chimico. Torniamo a parlare di una pratica che è fondamentale se vogliamo produrre, produrre bene e produrre meglio. Siamo in una situazione economica propizia, abbiamo visto Stefano, il dottor Stefano Serra, sottolineare gli economics del grano duro soprattutto, prezzi ai massimi, giacenze ai minimi, quindi tensione sui prezzi, momento favorevole, quindi cultura molto profittevole. E il diserbo è sicuramente una pratica fondamentale, se vogliamo produrre dobbiamo diserbare bene, ma oggi non è più così banale diserbare, l'abbiamo visto dal dottor Mirko Fabri, le infestanti cambiano, le infestanti diventano più aggressive, sono più difficili, ne arrivano di nuove e quelle vecchie diventano resistenti, quindi il diserbo del grano non è così banale, ma deve essere affrontato in un modo nuovo, in un modo diverso, con prodotti innovativi che oggi Corteva vi presenterà. Prodotti che siano efficaci, che siano selettivi, che diano un'occhiata ai costi, perché li dobbiamo contenere, se vogliamo portare a casa del profitto, che siano innovativi e che rispettino le normative sempre più severe del legislatore, quindi che abbiano un aspetto di sostenibilità non solo economica, ma anche ambientale, ma direi anche quasi sociale. E veniamo a noi allora, mi preme dirvi che nel grano duro, che è la cultura d'elezione di simbolo del made in Italy, l'Italia gioca un ruolo importante, l'Italia è un grande produttore di grano duro e è il primo esportatore di pasta, e quindi giochiamo bene questa partita e produciamo bene per diminuire la nostra dipendenza dall'estero e per fornire una buona materia prima alla nostra industria, che è orgoglio italiano, orgoglio del nostro paese. Quindi lavoriamo bene in filiera, perché è una cultura molto importante, dà profitto e abbiamo tutte le capacità per poter migliorare la nostra produzione. Mi è piaciuto l'intervento del dottor Fabri, sottolineando le perdite produttive, se non diserbiamo bene, se sottovalutiamo la situazione, possiamo perdere anche un 30, un 50% della nostra produzione e oggi, con i prezzi ai massimi, sarebbe un clamoroso autogol. Quindi è importante conoscere il terreno, conoscere le infestanti e diserbare bene. Qui vi riporto ad esempio alcune foto sul papavero, infestante tipiche di cereale paglia, infestante semplice fino a 5-10 anni fa, oggi grande problema, perché è diventata resistente a molti erbicidi attualmente in commercio. Ma veniamo alle soluzioni. Corteva vi propone le migliori soluzioni per il diserbo migliore nei cereali a paglia. Diserbo che oggi è diventato molto complesso, perché l'Italia è lunga e stretta, le situazioni agronomiche sono molto variabili da nord a sud, abbiamo cereali a livello del mare, quindi in zone litorane, abbiamo colture ceralicoli in collina fino a 600-800 metri, le situazioni agronomiche sono le più svariate e le infestanti cambiano e diventano più complicate. Quindi come diserbare, cosa fare, che cosa vi proponiamo? Beh, Cortella si pone come l'azienda dei cereali a paglia, che vi offre la più ampia gamma di prodotti disponibili da poter utilizzare. Abbiamo quattro graminicidi nel nostro catalogo, tre di post e uno di preemergenza, come sottolineava prima il dottor Fabri, per il contenimento e la gestione delle infestanti graminacee resistenti, quindi possiamo lavorare sia in pre che in post. E abbiamo una gamma di 6, 7, ma potrei arrivare fino a 9, di erbicidi di post emergenza. Quindi abbiamo tutti i prodotti per controllare tutte le infestanti di cereali a paglia. Non c'è un infestante che noi non riusciamo a controllare. La controlliamo bene, in modo selettivo per non danneggiare la cultura, e in maniera sostenibile dal punto di vista economico e sociale. Veramente un portafoglio che vi consente, grazie al personale Corteva, le migliori soluzioni. Vi ricordo anche che sono prodotti che abbiamo sviluppato a casa vostra, cioè qui in Italia, non sono prodotti che importiamo dall'estero, dagli Stati Uniti, li portiamo qua già con la ricetta fatta, ma li abbiamo costruiti, sviluppati, conosciuti, e ve li abbiamo mostrati lavorando sempre nei campi italiani. Sappiamo anche che la pratica del diserbo è molto complessa, dobbiamo tenere conto di molte cose, dell'efficacia prima di tutto, che è la cosa più importante, efficacia sulle infestanti annuali, ma abbiamo visto anche le infestanti perennanti, che sono molto pericolose, le infestanti resistenti, le infestanti nuove. Sempre con una grandissima selettività, vogliamo che il diserbo sia selettivo, e vogliamo anche che il diserbo sia veloce. Noi oggi vantiamo tra i diserbi più veloci sul mercato. Parlavamo di Arilex, quindi Zipar, Zipar è il diserbo più veloce, cioè che ha l'azione più veloce nel contenimento delle infestanti, quindi controlliamo l'infestante, ma la controlliamo anche velocemente, quindi fa pochi danni. Dobbiamo avere anche prodotti che siano affidabili, che funzionino bene, ad esempio Zipar funziona molto bene a basse o alte temperature, o in situazioni umide o anche in situazioni siccitose. Quindi un diserbo che mi dia affidabilità quando io vado a diserbare, che non sia residuale, che non sia volatile, che rispetti le colture vicine, o che mi dia libertà di fare successione. Quindi tante cose dobbiamo valutare, ma vediamo come farle. Veniamo a questo schema che vi propongo, problema-soluzione. Problema infestante, soluzione, diserbo-corteva. Partiamo da un'infestazione classica, normale, infestazione mista. Abbiamo graminacee, parlavamo di avena, di loietto, oppure nel sud ha maggiore presenza di bromo, falaride, foglie larghe annuali, magari non resistenti, presenza di veronica. Beh, abbiamo oggi due soluzioni, due erbicidi ad ampio spettro, prodotti molto selettivi e molto efficaci, come Floramix, oppure Brodwee più recente, che permettono una diserbo del cereale in un colpo solo, in un colpo unico, con un solo prodotto, dose secca, aggiungendo sempre il bagnante. È fondamentale aggiungere il bagnante a questi prodotti ad ampio spettro. Quindi controllo tutte le graminacee e anche le foglie larghe presenti. Questa è già la prima soluzione. Vi ricordo che Floramix e Brodwee sono gli erbicidi oggi più selettivi sul mercato, quindi la coltura non risente dell'utilizzo di questi erbicidi. Erbicidi, sono erbicidi che hanno un residuo sotto 001, sono perfetti nei contratti di filiera, così importanti per la produzione di grano, soprattutto grano duro e quindi della pasta, quindi rientrano bene in questi percorsi di valorizzazione del frumento. Sono prodotti che non danno problemi alle successioni, quindi posso fare le mie orticole o leguminose dopo il cereale, perché non hanno residualità e non danneggiano, ad esempio, le leguminose che vado a fare in post. Quindi prodotti perfetti per il diserbo di cereali a paglia per massimizzare efficacia, selettività e soprattutto le produzioni. Differenze, il Floramix è un prodotto che può essere comunque addizionato con un foglia larga specifico, ad esempio Zenith o Zenith Gold, Zenith soprattutto nel centro-sud, che contiene due o quattro di da estere, quindi devo stare attento alle culture vicine, Zenith Gold più adatto al cereale del nord. Oppure voglio un prodotto invece affidabile, faccio graminacee, foglie larghe, da passaggio unico, sicuramente Broadway. In Broadway abbiamo un maggiore dosaggio di florasula, che è la colonna portante come erbicida nel cereale a paglia, e quindi con Broadway faccio un passaggio unico e ho il controllo di tutte le infestanti che ho nel mio campo. Quindi due prodotti ampio spettro facili da utilizzare. Qui vi riporto anche nella foto in alto a destra l'attività, la velocità di azione sull'oietto in questo campo, in questo particolare, vedete l'effetto, l'arrossamento dell'infestante che viene poi controllata e bloccata. Se andiamo alle situazioni resistenti, come si diceva prima, l'oietto è un problema soprattutto in molti areali, soprattutto nell'areale adriatico, ma lo abbiamo anche nella parte tirrenica, nel Lazio, nell'Alessandrino, e poi su tutto il litorale adriatico. È un problema oggi, è un problema complicato, l'oietto è molto resistente, non solo alle solfoniuree, ma anche alle accase, ma anche al glifosate, e facciamo fatica. Che cosa possiamo fare? Beh, qui dobbiamo pensare ai programmi, quindi fare due passaggi. Un passaggio di pre o post precoce, con boiler, che contiene prosulfocar, principio attivo molto efficace sull'oietto, meccanismo d'azione diverso dai gravinicidi post emergenza, che ci permette di contenere l'infestazione, molto selettivo, molto efficace, con una buona tenuta nel tempo, quindi una buona residualità, con le avvertenze dette prima, buon affinamento del terreno, presenza di umidità, ma di solito d'inverno sui cereali questa non manca. Certamente non mi esime dal poi ribattere in post con i nostri ampio spettro, Floramix o Broadway, oppure il gravinicida specifico senior. Quindi un percorso in due passaggi per gestire l'oietto. Questo, ahimè, è cosa da fare, se vogliamo controllare questa infestante, direi temibile, che può portare a perdite di produzioni importante. Qui vediamo alcune foto di boiler, riprese l'anno scorso, qui siamo in Umbria, a Terni, Orvieto, a sinistra il testimone, vedete la grande presenza di l'oietto, vedete tutta la, diciamo così, la graminacea, no? Così un po' incurvata, tipico dell'infestazione dell'oietto, molto anche chiara, e a destra invece, la foto, la parcella è molto più scura, qui c'è solo frumento, questo è frumento tenero, dove l'oietto è stato completamente controllato da un'applicazione di boiler, fatta dieci giorni dopo la semina, a quattro litri etero, con un'ottima selettività. Sappiamo che l'oietto può portare a perite produttive superiore al 50%, se parliamo di 100 piante a metro quadro, quindi un'infestante temibile e molto pericolosa per il potenziale produttivo del nostro cereale, quindi è fondamentale controllarla, controllarla in questo caso in due passaggi, un pre-post-precoce e una ribattuta per cosa? Per quello che rimane di l'oietto e per le altre graminacee, avena e falaride in primis. Vi ricordo che su questi graminacidi e ampio spettro è fondamentale fare il bagnante, è fondamentale per avere un'ottima efficacia, nel nostro caso consigliamo sempre Wetting Plus. Questo è importante ricordarselo e non scordarlo mai e utilizzarlo sempre. Veniamo alle foglie larghe, veniamo alle dicotiledoni, sono molto variegate, anche qui nuove specie di recente introduzione, ci abbiamo specie storiche, specie resistenti, che cosa consigliamo? Sicuramente Zipar, l'ultimo arrivato, contiene Arilex, nuovo erbicide, l'innovazione nel diserbo del grano, veramente è il nuovo riferimento, lo ha svolta nel diserbo del cereale, perché è un'erbicida molto più efficace degli altri presenti sul mercato, soprattutto su papavero, su fumaria, come si diceva prima, perché pochi erbicidi sono attivi su questa infestanti, controlla infestanti resistenti come il papavero, molto veloce, è il più veloce sul mercato, e questo è importante se vogliamo controllare le infestanti subito, Zipar ha una grande attività, molto selettivo, contiene anche un antidoto, quindi veramente Zipar è un erbicida, molto delicato nel grano, ma molto cattivo, molto forte contro le infestanti, non è residuale, non è volatile, rientra bene nei percorsi di filiera, perché il residuo rimane sotto 001, quindi è il prodotto ideale, perfetto per il grano, vi confermo oggi che Zipar è il primo erbicida utilizzato nei cereali a paglia in Italia, se non possiamo utilizzare Zipar, abbiamo anche una seconda soluzione, che è Zenit, l'erbicida storico molto diffuso al sud, direi più indicato nei casi di senape resistenti. Questo un po' sulle foglie larghe annuali. Se abbiamo Viola-Veronica, che dicevamo prima, specie di recente introduzioni, problematiche, perché molte soluzioniurei non lo possono controllare, noi torniamo al nostro Flora Mix e Broadway, che con Piroxolam controllano benissimo queste due infestanti, quindi andiamo a risolvere questo problema, Viola tipico problema del centro-nodo, nelle annate piovose e fredde, Veronica invece in grande espansione, soprattutto in pianura padana, beh, Flora Mix, Senior e Broadway sono la soluzione migliore. Oppure andiamo sull'erbicida storico Ariane, Ariane 2, importante per il controllo delle perennanti, oppure per queste due infestanti. Se veniamo invece alle perennanti, grande tematica soprattutto quando si fanno minime lavorazioni, quindi parliamo del silibum bariano, quindi il cardo, oppure il cirsi, un stoppione, crisantemo, tipico negli areali della Sicilia, poligonacee, quando abbiamo il grano rado e abbiamo una primavera molto calda, o andiamo sulle infestazioni di centaure, tipica della Sicilia, qui i problemi sono complicati, molti prodotti falliscono, si fanno fatica a contenere, Corteva vanta le due migliori soluzioni presenti sul mercato, che sono Columbus e Ariane 2. Columbus soprattutto per interventi precoci, non contiene ormonici del perfetto per essere miscilato con tutti i graminicidi, sia di Corteva che di altre società, non danneggia minimamente il graminicida, ed è il prodotto perfetto direi, soprattutto negli areali del centro nord, perché non è residuale né volatile, oppure nel centro sul se abbiamo molte centaurea. Se invece optiamo per un ormonico, interventi tardivi, e vogliamo anche un effetto magari di maggiore velocità, sicuramente Ariane 2 è la soluzione, quindi due soluzioni a disposizione del cereali coltore, che può scegliere quello che gli aggrada di più. Precoce, tardivo. Se veniamo agli effettanti resistenti, quindi la tematica di oggi, il grande problema, papavero che oggi è diffuso in tutti gli areali, è diventato resistente alle solfogneuree, alle triazoloprimidine, e in certi casi ormonici, MCPA e 2,4-D, non abbiamo più armi, qui siamo nudi. Che cosa possiamo fare? Beh, qui arriva Arilex, arriva Zipar, che ha una grandissima attività su papavero, sia sensibile che resistente, sia sui diversi biotipi, perché, come sapete, non c'è solo papavero eas, ma c'è argemone, ma c'è papaver ibridum, ci sono diversi tipi di papavero. Quelli resistenti, Zipar li controlla benissimo, e quindi abbiamo trovato una soluzione di post-emergenza molto flessibile. Altra possibilità può essere zenith. Nel caso di sena per resistenti, qui torniamo ai nostri ormonici, quindi 2,4-D, zenith, oppure MCPA, Ariane 2. Quindi anche qui abbiamo diverse armi nel nostro arsenale per controllare le foglie larghe e resistenti che si stanno affacciando e mettendo a repentaglio il potenziale produttivo dei nostri cereali. Qui alcune immagini, scusate, qui Verona, diciamo nel centro-nord, vedete a destra il testimone, completamente sovracchiato dal papavero, in basso a sinistra le solfinuree che non riescono più a controllare questo tipo di infestazione, e Zipar che trovate in basso al centro con una parcella che è completamente pulita. Quindi grandissima attività di Zipar rispetto al testimone, ma rispetto anche alle soluzioni oggi sul mercato, vedete la solfinurea in basso a destra che non riesce a controllare il papavero. Anche a Ravenna, un'altra situazione con papavero resistente e conclamato, anche qui Zipar, vedete anche Tresa che sarà un nuovo prodotto continente Arilex che verrà lanciato a breve, continente Arilex, quindi grande attività di controllo su papavero, mentre vedete il testimone oppure la solfinurea in basso a sinistra, dove invece la parcella presenta moltissimo papavero che può ridurre il potenziale produttivo. Nel caso del colturo infestante, anche qui Zipar riesce ad essere una soluzione soprattutto per le leguminose, se invece abbiamo colza o girasole, magari Clearfield, sicuramente dobbiamo ricorrere a zenite Ariane, quindi quando abbiamo le rinascite di colza o girasole. Qui vi riporto il sommario, quindi infestazione mista, flora, mix e Broadway, foglie larghe annuali sicuramente il prodotto migliore è Zipar, se abbiamo perennanti, Columbus, se abbiamo le resistenti, papavero sicuramente Zipar, se abbiamo senape, andate su Zenit. Quindi poche prescrizioni chiare per, diciamo così, contenere gli infestanti nel modo migliore. Periodo di intervento, abbiamo prodotti per interventi precoci come Zipar e Columbus o prodotti per interventi tardivi come dicevamo prima o nel caso in cui avessimo fallito il primo colpo. Qui Corteva mette a disposizione Ariane 2 oppure anche gli Starane, sia Gold che HD, quindi un'altra freccia nel caso in cui avessimo difficoltà con il primo intervento. In termini di velocità, i prodotti Corteva sono prodotti molto veloci, parliamo di Columbus, Ariane o Zenit, se vogliamo il prodotto più veloce, lui del centometrista, il Marcel Jacobs del Diserbo sicuramente Zipar è il prodotto che ci dà più performance. Vedete a sinistra le solfinureiche hanno un'attività che è molto molto più lenta, quindi importante anche la velocità d'azione. Miscibilità, tutti i prodotti Corteva per foglia larga sono miscibili con i nostri graminicidi, sicuramente Zipar e Columbus si pongono al top di miscibilità con i graminicidi Corteva ma anche con i graminicidi delle altre società. questo è importante considerarlo. Volatilità è fondamentale, sicuramente se guardate Floramix e Brody ovviamente non hanno problemi, per i foglia larga quando abbiamo prodotti con ormonici come Zenit, Zenitrio dobbiamo essere cauti, altrimenti Ariane 2 che ha MCPA da sale, altrimenti andiamo sui prodotti super sicuri come Columbus e Zipar che qui vediamo in la parte destra. Per quanto riguarda rotazioni, chiaramente il clopirali va usato con attenzione, prescrizione agronomica in etichetta ma sappiamo non dare problematiche alle colture in secondo raccolto tipo soia, altrimenti se vogliamo essere non sicuri ma di più andiamo a utilizzare Zipar, Floramix, Senior e Brody che non hanno nessuna problematica sulle successioni e non lasciano nemmeno residui. Se parliamo di residui quindi percorsi di filiera vediamo a sinistra i prodotti da residuo zero fatemi passare questo termine quindi Floramix, Senior, Brody e Zipar se vogliamo entrare in una filiera con residui sotto 001 oppure i prodotti più flessibili come a destra dove non hanno intervallo di sicurezza e quindi possiamo gestire meglio il diservo anche in applicazioni tardive anche se non sono mai consigliate perché è meglio intervenire a gestimento inizio primo nodo per avere la migliore efficacia sulle infestanti. Termino con le colture registrate vedete che i prodotti Corteva sono registrati praticamente su tutti i cereali a paglia vi riporto Zipar che ha l'etichetta più ampia manca solo l'avene ma andiamo dal grano tenero al grano duro l'orzo triticale, segale e anche il più recente farro molto interessante per alcune filiere di qualità o di particolare pregio. Vi ringrazio per l'attenzione e qui per le domande per rispondere ai vostri dubbi o altri quesiti a te Gian Antonio grazie Mirko grazie per averci fatto veramente una carellata di quelle che sono le soluzioni Corteva per il diserbo dei cereali a paglia abbiamo visto tante soluzioni tante innovazioni sono arrivate tante domande ahimè non sono per te sono quasi tutte per la presentazione di Matteo bene quindi te le farò a raffica proprio quindi domande molto veloci e anche risposte dirette proprio certo allora partiamo dalla più semplice Bluenne è un biostimolante sì o no? assolutamente sì rientra nella categoria dei biostimolanti è registrato in Italia come biostimolante abbiamo ottenuto la registrazione un paio di settimane fa quindi assolutamente sì può essere miscelato con gli erbicidi per fare un unico passaggio? assolutamente sì può essere miscelato con gli erbicidi diremmo una lista di miscibilità al più presto possibile nei prossimi giorni infatti era l'altra domanda se c'è già una lista di prodotti compatibili sì comunque posso dire che i top 5 prodotti è compatibile perfetto essendo un batterio vivo è miscibile anche con rame e zolfo? no purtroppo no con il rame con lo zolfo purtroppo allora lo zolfo diciamo zolfo inteso come nutrizione sì ma fino a concentrazioni massimo del 5 10% con il rame purtroppo no e poi un'altra domanda quante unità di azoto apporta alla pianta di cereale considerando un fabbisogno di 150 unità per tutto il periodo allora io sono un po' contrario a parlare di apporti io preferirei che comunque l'ho dichiarato anche prima parliamo di una media di su cereale di 50 unità ettaro però io porrei più l'attenzione su un aumento di produzione e sull'aumento della qualità della produzione se applicata la foglia bandiera con alte temperature può cristallizzarsi sulle foglie come avviene con cimi liquidi effetto lente fondamentalmente sì allora dato che il nostro metilobacterium penetra all'interno della pianta attraverso gli stomi consiglio consiglio assolutamente di applicarlo nelle prime ore del mattino quando gli stomi sono aperti o la sera sempre quando gli stomi sono aperti hai visto che abbiamo fatto presto a risolvere tanti quesiti sono arrivate anche le domande per Mirko dai meno male e anche per gli altri relatori allora innanzitutto partirei con Mirko Favri abbiamo visto nella tua presentazione pochi meccanismi d'azione arriva dell'innovazione nel diserbo nuovi meccanismi d'azione per risolvere le problematiche delle resistenze beh nuovi meccanismi d'azione diciamo nel breve probabilmente no diciamo proprio nel breve si parla di 1, 2, 3 anni probabilmente no nel futuro probabilmente qualcosa può arrivare anche in termini di nuovi principi attivi tant'è al momento l'ultimo principio attivo diciamo introdotto l'ultima novità è stata è stato l'aridex la Voxifen praticamente quindi diciamo nei prossimi 1, 2 anni no 3, 4 anni probabilmente qualcosa di nuovo in cantiere c'è Mirko ribalto anche a te visto che rappresenti una società avete in cantiere nuove soluzioni per quanto riguarda il disarbo dei cereali a paglia beh direi che è un po' il compito dell'industria fare ricerca e fare innovazione concordo con Mirko che non è facile fare nuovi erbicidi nel breve sarà un po' fatica nel medio termine l'industria sta lavorando c'è un po' fermento un po' in tutte in tutta l'industria Corteva si pone al massimo livello della ricerca abbiamo già delle nuove molecole nel nostro carniere ci stiamo lavorando quindi anche noi nel medio termine contiamo di arrivare con delle nuove proposte nuove soluzioni quindi assolutamente sì innoviamo innovare è il nostro motto e lo stiamo facendo un'altra domanda per te 2,4D ed MCPA possono essere utilizzati fino alla botticella? Beh allora direi che il problema più del 2,4D è quello di non essere usato troppo presto perché abbiamo poca poca efficacia dovuta alle temperature chiaramente non mi spingerei così avanti soprattutto in termini di efficacia direi nel senso che alla botticella probabilmente i buoi sono già scappati e abbiamo infestanti troppo grandi non lo userei così avanti magari farei formulati tipo base fluroxi per quindi Starane consiglierei per i termini tardivi Starane Gold o Starane HD non farei il 2,4D troppo vicino al botticello L'ultima domanda la rivolgo a Stefano visto siamo partiti con lui e direi che chiudiamo abbiamo sentito un po' quelle che sono le situazioni di mercato quelle che sono anche le tensioni dei vari mercati secondo te da un punto di vista di prezzi cosa ci possiamo aspettare per il 2022 quindi per la nuova campagna un po' per dare se potessimo avere la sfera di cristallo perché dicevi le condizioni climatiche sono molto importanti certo allora possiamo dire che per la nuova campagna sicuramente avremo un momento di mercato che sono i primissimi mesi dove non dovrebbe cambiare molto nel senso che finiamo con delle scorte estremamente basse possiamo dire anche per tutti i cereali perché prima si accennava il grano d'oro ma tendenzialmente anche per i grani di forza stiamo diciamo usando tutte le risorse disponibili europee che sono chiaramente più economiche rispetto a quelle estere e italiane parlo del Bologna o delle altre varietà tipo Bologna come vengono elencate direi che come prezzi sicuramente il primo trimestre diciamo da il giugno agosto sostenuto sicuramente sarà un momento di transizione tra le due campagne con prezzi abbastanza alti poi dopo se tutto andrà bene ci sarà un progressivo ritorno alla normalità che potrebbe anche essere accelerato nel caso di raccolti eccezionali non solo in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo bene grazie Stefano allora siamo arrivati alla conclusione di questo evento direi che secondo me è stato molto interessante perché abbiamo analizzato il mercato abbiamo analizzato quelli che sono le tecniche culturali fondamentali per la coltivazione dei cereali a paglia quindi diserbi fertilizzazione abbiamo visto anche quelle che sono le innovazioni che mette in campo Corteva per queste due importanti operazioni culturali vi ricordo che la registrazione dell'evento sarà disponibile sul canale youtube dell'informatore agrario e seguirà anche un resoconto diciamo sulle pagine dell'informatore agrario quindi potrete riascoltare quindi anche rivedere le presentazioni dei nostri relatori sul canale youtube quindi nei prossimi giorni vi ricordo che questo è il primo appuntamento avremo un secondo appuntamento e parleremo di mais seguite le informazioni derivanti appunto dalle newsletter e appunto dai canali social dell'informatore agrario per tenervi aggiornato su questa accademia dei seminativi che Corteva ha voluto costruire in collaborazione con l'informatore agrario ringrazio i nostri relatori e ringrazio a tutti voi per essere rimasti collegati fino adesso e vi auguro una buona serata buona serata grazie 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 grazie